Nel 1991 ho ripreso la banda cittadina e ancora adesso, dopo 30 anni, 33 anni, sono ancora il maestro di tanti ragazzi e me ne faccio un orgoglio personale perché da questa banda, non lo dico solo così per dire, abbiamo alimentato quasi tutte le bande del paese. Quindi sono nati tanti musicanti e musicisti, molti musicisti perché da questa scuola vanno anche al conservatorio e dopo diventano proprio professionisti. Quest'anno noi abbiamo il piacere, la mattina di solito stiamo sempre dietro il Calvario, invece il pomeriggio a turnazione quest'anno ci tocca suonare dietro la culla di Gesù Morto. Quindi suoneremo marce bitontine, dei vari maestri bitontini, vecchi e anche nuovi perché bisogna dirlo, fino a poco tempo fa si faceva solamente Carelli, si faceva Pasquale alla Rotella, si faceva Abate, delle Cese, invece adesso ci sono anche degli autori bitontini come Mezzapesa, Cotugno, Vito De Santis, quindi si fanno anche delle marce di autori un pochettino più giovani. Certo, i vecchi maestri, tanto di cappello, avevano la mente un pochettino più larga. Noi siamo più piccolini però ci fa piacere che anche queste marce scritte da noi, magari un domani, rimangono negli archivi del paese. Pasquale alla Rotella è un autore, diciamo, giovane, perché è del Novecento e anche la scrittura, notiamo la differenza di scrittura, da Carelli alla Rotella, nelle difficoltà di lettura, di esecuzione e anche di armonizzazione. Il pezzo, il 13 che seguiamo, è un poema, un manto tutto leggero per quasi tutto il brano e quest'anno ricorre il sessantesimo e quindi daremo lustro alla Rotella. Allora, Vincenzo, tu hai cominciato a suonare a sei anni. Mio zio mi ha tramandato questa passione di suonare la tromba e mi piaceva molto da tanti anni. E arrivò il sesto anno natale dove me la regalò e da lì è partita la mia grande esperienza. Qual è la cosa che ti piace di più? La desolata e la cinque di Carelli. Quando vedevo che c'era la festa del venerdì santo, mi appassionava vedere i clarinettisti e quindi da lì è uscita la passione che io volevo suonare il clarinetto. E quanti anni hai cominciato a suonare? Sono cinque anni che ho iniziato questo percorso. Da quando ero piccolino, avevo l'età di tre anni che andavo dietro con la banda. E mia madre mi ha raccontato, infatti, che poi quando si faceva molto tardi, diceva al maestro dite che ve ne dovete andare e così per convincermi. E loro mi dicevano che se ne dovevano andare e poi io andavo via. Però poi, altrimenti sì, rimanevo. E ti piace? Sì, a me piace molto, soprattutto il venerdì santo, perché delle marce a me piace molto. La cinque di Carelli, la desolata e mamma.